Bene ragazzi, con il presente frammento veniamo a concludere in qualche modo la quarta lezione del nostro seminario e nel precedente segmento ci eravamo fermati, grazie alla testa di ponte che ci era stata offerta dalla Massime di Rivarol sulla politica, alla introduzione di quello che in qualche modo il termine chiave nella transizione dalla struttura alla forma, ovvero nel passaggio dal politico alla politica, ci eravamo soffermati, avevamo cominciato a introdurre la definizione di sovranità offerta nel 1576, nel primo dei sei libri sulla Repubblica, in particolar modo all'altezza del capitolo ottavo da parte di Baudet, e avevamo cominciato a prendere di mistichezza con questa affermazione, in ragione della quale la sovranità è quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato. Abbiamo anche accennato che bisogna frammentare questa definizione, che di per sé sembra molto sintetica, e cominciare in maniera ultimativa a far interagire i lemmi e i concetti che avevamo visto già interagire nelle Massime di Rivarol all'interno di questo concetto chiave, che è il concetto di sovranità, per tutte le forme storiche che hanno preso a chiamarsi dal 500 in poi Stato. Ho già accennato al fatto che è un'etichetta di convenzione quella che utilizziamo con la parola Stato, perché nel corso del tempo le forme Stato sono gemmate molto più di quanto uno lo possa immaginare e vedremo che questo tipo di gemmazione, per cui è possibile ogni volta procedere con delle forme identificative che però non esauriscono lo specifico della forma alla quale ci stiamo riferendo e perché ogni volta lo specifico abito nello spazio e nel tempo che un'unità politica assume ha delle connotazioni, delle increspature, delle pieghe che sono specifica prerogativa di quella singola unità politica. Su questo lo vedremo in particolar modo nella prossima lezione del seminario, tuttavia quello che a me preme in questa parte conclusiva della quarta lezione è soffermarci su questo aspetto della sovranità, perché ho detto che è la pietra angolare delle forme Stato, ed è la pietra angolare ancora oggi delle forme Stato, tant'è che se solo ci volessimo riferire a delle banali trascrizioni cronachistiche ogni volta, specie se pensiamo ai dibattiti che hanno a che fare con le questioni o le macro questioni di stampo europeo, ogni volta in ballo è chiamato questo aspetto, quello che ha a che fare con l'indipendenza e la sovranità dei singoli Stati di turno. Allora noi stiamo mettendo le mani su questo lemma decisivo del vocabolario della politica, ma che è il lemma decisivo del vocabolario della politica, ovvero che ci consente di meglio comprendere nello spazio e nel tempo un fenomeno politico, sorretti dalla cassetta attrezzi dei lemmi e dei concetti dell'ambito del politico, è quello che meglio ci consente di comprendere un fenomeno politico perché ogni volta ci inchioda alla specifica dimensione di vivere associato che, ancora declinandola nei termini del politico, ha raggiunto il suo grado di intensità associativa massima, quindi è un'unità politica e proprio perché è un'unità politica, ed allora elemento chiave nella transizione politico-politica è che il concetto di sovranità chiama in ballo, sebbene nella definizione che abbiamo appena richiamato di Baudenio non sia esplicitato, i tre elementi strutturanti l'ambito del politico. Allora, torniamo a riflettere sul concetto di sovranità elaborato da Baudenio. Innanzitutto partiamo dalla parte conclusiva della definizione, quando Baudenio dice che la sovranità è questo potere che è proprio dello Stato, ovvero è specifica prerogativa di questa unità politica che si è data a un determinato registro organizzativo, vedremo, che corrisponde ogni volta a una modulazione, a un'inflessione specifica della forma Stato. questo potere, attenzione, ed è questo che è il primo elemento nodale della definizione di Baudenio, è un proprium di questa specifica unità politica. Se volete è quel potere politico che in precedenza abbiamo visto nelle massime di Riverol, che caratterizza non in maniera astratta le unità politiche, ma qui ed ora, nello specifico, questa unità politica in ragione di ciò che è in grado di fare nella sua possibilità di correlazione e coniugazione con il mondo esterno. Questa forma che sta cominciando ad assumere dei contorni Stato è il proprium di questa unità politica nei termini in cui la forma dipende dall'attività e dall'azione sottostante di questa specifica dimensione di vivere associato che ha raggiunto il grado massimo di intensità associativa in relazione al mondo esterno. E questo potere, attenzione, veniamo al primo articolato, alla prima parte della definizione di Baudenio, è assoluto e perpetuo, ovvero è sciolto da ogni istanza esterna che ne determina la possibilità più propria di determinazione e soprattutto è perpetuo, ovvero mira il più possibile a rendersi vitale, a procrastinarsi nel tempo. È perpetuo non perché è legittimato da un principio metafisico che lo rende eterno, è perpetuo nei termini in cui questo potere è in grado di realizzare la possibilità più propria di permanenza in vita dello Stato, ovvero dell'unità politica che si determina, sta assumendo qui ed ora, nello spazio e nel tempo, l'abito, la forma di Stato. Ora, noi dobbiamo, tra le altre cose, collocare questa definizione di Baudenio nel suo tempo specifico. Ho detto, siamo alla fine del 1500, 1576 e la situazione storica nella quale autori come Bauden, ma prima di lui si può fare il nome di Machiavelli, agiscono e riflettono al fine di determinare una forma nuova per le unità politiche. E dico una forma nuova per le unità politiche, per le nuove unità politiche, in ragione appunto della situazione storica nella quale ci troviamo. Siamo all'indomani dell'uscita, diciamo così, dal Medioevo, ovvero hanno collassato le forme storiche precedenti che determinavano il campo di esistenza delle unità politiche. È tramontato l'orizzonte nel quale l'ordine di relazione ai fini della legittimazione di un qualcosa come quello che stiamo vedendo, come la sovranità, è determinato da un'istanza che ha a che fare con il dominio diretto, la regolamentazione diretta dei membri dell'unità politica e con un'istanza metafisica incarnata dalla figura del Papa che legittimava questo potere sovrano. Ora noi, all'indomani del Cinquecento, abbiamo a che fare con un'ulteriore problematica che è quella in ragione della quale questa istanza metafisica di ascendenza religiosa, non supporta più ai fini della legittimazione del potere politico, per utilizzare la terminologia di Rivarola. Soprattutto siamo all'indomani di un'ulteriore fase di scissione all'interno della religione più diffusa in Europa, ovvero il cristianesimo. Siamo all'indomani delle tesi di Lutero, siamo all'indomani della scissione di ordine religioso, per capirci, tra cattolici e protestanti e, sapete meglio di me, siamo nel bel mezzo delle cosiddette guerre di religione che culmineranno nella seconda metà del Seicento, addirittura con una loro prima fase di chiusura. Siamo, il dato storico è importante per capire la genitura di questa forma, ma lo è relativamente all'impostazione di questo seminario, la problematica è di questo tipo. Già percepibile all'interno della proposta di Machiavelli, che in qualche modo per questo passa alla storia del pensiero filosofico politico come il fondatore di questa scienza filosofico politica, siamo in un registro nel quale le unità politiche si rideterminano in ragione di un nuovo campo definitorio. Un nuovo campo definitorio, ovvero sono crollate le istanze che tenevano su. L'articolato che avevamo visto essere fondante l'ambito del politico tra singolo, un singolo che diviene membro di una dimensione di vivere associato, prassi della decisione politica, stato di emergenza. Appunto siamo in uno scenario, spazio-temporale, nel quale si devono ridefinire letteralmente i confini, non semplicemente geografici, ma esistenziali delle nascenti unità politiche. E' proprio in ragione di questa ridefinizione il prendere atto che le vecchie forme, i vecchi abiti delle unità politiche preesistenti non sorreggono più in ragione di questo specifico spazio-tempo. Dicevo, Machiavelli già ne avvisava quando nel Principe, in quello che sembra essere una sorta di manuale a uso e consumo di quello che diventerà la nuova figura del sovrano, rileva che il Principe non deve avere nessun motivo di legittimazione rispetto alla sua attività di sovrano, se non quello che gli proviene in qualche modo direttamente o indirettamente dai membri del Principato. Ora noi, qualche decennio dopo, con Bauden, ci troviamo di fronte, o meglio Bauden si trova di fronte a questo tipo di problematica, ovvero affermare l'autonomia letteralmente di queste nuove nascenti dimensioni di vivere associato, di queste nascenti unità politiche post-medievali, affermare l'autonomia di queste unità politiche nei termini della nuova veste che queste unità politiche devono assumere. E Bauden dà il nome di res pubblica, no? Res pubblica, da non confondere, attenzione, con una delle forme specifiche di Stato moderno e contemporaneo che è la Repubblica, vedremo. Qua è proprio letterale, nei termini di res pubblica, di cosa pubblica che occupa e preoccupa non il genere umano, non indistintamente qualsiasi membro delle unità politiche in giro per l'Europa, spasso per l'Europa, ma ogni volta gli specifici membri, abbiamo detto già sotto la scorta del sostegno di Rivaroli, il popolo, questo specifico popolo, nei termini in cui si autodetermina e nell'autodeterminarsi come specifico campo di esistenza, in ragione di lingua, costumi, abbiamo detto il proprio stato di normalità, immediatamente deve rintracciare e rinvenire nel centro propulsivo che abbiamo visto nell'ambito del politico, non semplicemente un motivo di autoidentificazione nei termini della prassi politica, ma ciò che ridetermina, riposizionando e mobilitando l'intera unità politica in ragione del mondo esterno ogni volta la possibilità più propria della permanenza in vita, costi quel che costi, di questa unità politica che sta assumendo la forma di Stato. E allora Boden, è qua che chiude il cerchio della stretta definitiva nel passaggio tra il politico e l'ambito della politica, individua nel concetto di sovranità questo elemento di saldatura di ambiti e nell'individuare nel concetto di sovranità l'elemento di saldatura di ambiti, immediatamente riconosce un ordine di fondamento alla sovranità che è più propria di questo specifico gruppo umano che nei termini della politica prende il nome di popolo che determina a partire da se stesso, istituisce a partire da se stesso questo potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato, ovvero dei membri che compongono, rendono possibile, delimitano il campo di esistenza di questa unità politica nei termini, attenzione, del suo esercizio. Che vuol dire esercizio della sovranità? Vuol dire che ci dobbiamo cominciare a posizionare nei termini della forma rispetto all'elemento centrale prassi della decisione politica. Vuol dire innanzitutto e per lo più esercizio della sovranità, così cominciamo a introdurci a un contenuto decisivo che ha a che fare con l'individuazione di chi è il monopolista della sovranità, vedremo, nei termini in cui è questa specifica dimensione di vivere associato, questo specifico popolo e dunque questo specifico popolo che sta assumendo una forma, la forma Stato, che fonda questo potere, che dunque si autolegittima a partire da se stesso e a come fine se stesso, ovvero la propria permanenza in vita, nei termini della individuazione al proprio interno, per questo parlavo di autonomia dello Stato, senza che ci sia una voce fuori campo, un'istanza metafisica, un principio metafisico, non solo a legittimare questo principio sovranità, ma a legittimare colui il quale, colei la quale o la cosa quale inabita il luogo monopolistico di prerogativa principale di esercizio della sovranità. Spero che sia chiaro che adesso che stiamo cominciando a prendere confidenza con il vocabolario della politica, quando parlo, parliamo di esercizio della sovranità, stiamo dicendo né più né meno che prassi della decisione politica, tuttavia nei termini della forma storica Stato. Esercizio della sovranità, che è prerogativa esclusiva di questo potere fondante, e questo potere fondante che è un potere, abbiamo detto, sciolto, assoluto da qualsiasi istanza esterna, si legittima a partire da sé, nei termini in cui realizza attimo per attimo il fine del rendersi perpetuo, ovvero la possibilità e la capacità, sul piano della prassi, di rendere perpetua nei termini dell'autoconservazione, per utilizzare ancora il termine di Rivarol, di questa specifica unità politica che sta assumendo la forma Stato. Esercizio della sovranità, dunque, è esattamente l'individuazione nella forma Stato di quell'elemento di disimmetria, di asimmetria, che si era determinato nell'ambito del politico ai fini del riposizionamento attimo per attimo e mobilitazione attimo per dell'unità politica Stato ai fini della sua permanenza in vita. E allora cominciamo a interrogare che cosa significa esercizio della sovranità e cominciamola a interrogare nei termini del nostro concetto di prassi della decisione politica che abbiamo visto, lo ripeto, fino alla nausea, essere uno dei tre concetti chiave all'interno dell'ambito del politico, nel senso che determina il campo di esistenza dell'ambito del politico. Esercizio della sovranità, né più né meno, come l'abbiamo visto dunque nell'ambito del politico, come l'emma è concetto dell'ambito del politico, come l'emma è concetto fondante, strutturante l'ambito del politico, vuol dire la possibilità e la capacità di ogni volta riposizionare e mobilitare lo Stato ai fini della realizzazione della permanenza in vita del potere sovrano fondante, ovvero del popolo, nei termini della relazione attimo per attimo non con il cielo astratto, ma con il piano dell'effettività che si chiama mondo esterno. Esercizio della sovranità dunque vuol dire quell'esercizio di riposizionamento e mobilitazione dello Stato finalizzato alla realizzazione attimo per attimo della sua permanenza in vita in relazione diretta, in coniugazione diretta con il mondo esterno. Dunque vuol dire un esercizio, in prima battuta, che legittimato dalla specifica unità politica nel cui seno avviene questo esercizio, in relazione e in direzione del mondo esterno, che sappiamo già nei termini strutturanti l'ambito del politico, cosa che non cambia quando ci collochiamo nello spazio e nel tempo, che è un veicolo costante di un qualcosa che incombe su questa specifica unità politica Stato, dicevo, un esercizio nei termini dell'autoconservazione e della preservazione che si effettua attraverso il riposizionamento e la mobilitazione dell'unità politica Stato. Dunque vuol dire esercizio della sovranità, una modularità di guardiania costante in direzione del mondo esterno per captare, per registrare attimo per attimo se ci sono degli elementi, dei motivi che possono qui ed ora alterare lo stato di normalità di questo specifico popolo, di questo esclusivo e specifico popolo all'interno del mondo esterno stesso, che può risultare controfinalistico rispetto all'autoconservazione e all'autopreservazione dell'unità politica Stato. Ma questa registrazione, come abbiamo visto già all'altezza dell'ambito del politico e che dunque è prerogativa del monopolista dell'esercizio della sovranità, che possiamo cominciare a chiamare con il suo nome specifico, ovvero il monopolista dell'esercizio della sovranità è il sovrano, piccola nota a piepagine, attenzione a non confondere il sovrano con il monarca, qua stiamo lavorando su un lemma e un concetto del vocabolario della politica in diretta coniugazione con l'ambito del politico, quindi quando dico il sovrano non penso a un monarca, non dobbiamo pensare a un monarca o in particolar modo a un monarca assoluto, ma sovrano è ad esempio anche un'assemblea sovrana, dunque qua nei termini proprio dell'emma concetto della politica il sovrano traduce immediatamente colui il quale, colei la quale o coloro i quali inabitano questo elemento di disimmetria, di asimmetria interna proprio di questa unità politica nei termini del riposizionamento e mobilitazione che si occupa dell'esercizio della sovranità, ovvero di questo potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato stesso e di questo Stato, ovvero di questo specifico gruppo umano che è un'unità politica. Sovrano dunque è colui il quale, colei la quale o coloro i quali si devono preoccupare nei termini dell'esercizio della sovranità, nei termini dell'esercizio della prassi e della decisione politica, di riposizionare e mobilitare l'unità politica Stato al cospetto della relazione diretta con il mondo esterno ai fini della realizzazione, attimo per attimo, dello status, dello Stato di normalità di questo specifico popolo e dunque di questo specifico Stato. Dunque un esercizio, dicevo, di costante guardiania in relazione al mondo esterno che ogni volta si traduce in una prassi specifica che realizza attimo per attimo il nostro Stato di normalità. Dunque esercizio di sovranità vuol dire, da parte del sovrano, del monopolista della decisione politica, registrazione della situazione del mondo esterno. Registrazione della situazione del mondo esterno che si apre a una casistica di questo tipo. Il mondo esterno che incombe sulla nostra unità politica Stato è in situazione di quiete. Che vuol dire che è in situazione di quiete? Il mondo esterno è in costante mobilitazione, così come lo deve necessariamente ai fini della realizzazione della propria permanenza in vita essere la nostra unità politica Stato. È una situazione di quiete che il sovrano valuta di quiete perché qui ed ora non veicola motivi di eccedenza rispetto al nostro Stato di normalità, ovvero i nostri modi d'essere, il nostro abito ontologico, è già predisposto alla sua autorealizzazione, attimo per attimo, al cospetto dello scenario, sempre cangiante che il mondo esterno offre, ma che qui ed ora non veicola motivi non contemplabili dalle nostre possibilità, molteplici ma non infinite, di posture in relazione al mondo esterno ai fini della realizzazione della nostra permanenza in vita. Per questo diciamo di quiete. Dunque, la nostra realizzazione che non conosce soluzioni di continuità, il che vuol dire che l'esercizio della sovranità, come era il caso della prasse della decisione politica all'altezza dell'ambito del politico, non può conoscere motivi di soluzione di continuità, è in una possibilità di esercizio che attinge direttamente al nostro Stato di normalità per riposizionare e mobilitare attimo per attimo l'unità politica Stato. Vedete, c'è perfetta la corrispondenza quando il sovrano valuta che il mondo esterno è in situazioni di quiete al cospetto dell'unità politica Stato che siamo, e valuta appunto il mondo esterno come quiete, una capacità di esercizio nei termini della valutazione dell'attingimento dell'azione specifica o del complesso di azioni specifiche che sono già contemplate dal nostro Stato di normalità. Che cos'è che non deve sfuggire in questa situazione idilliaca di esercizio della sovranità, che è idilliaca per i membri dello Stato che fruiscono di questo esercizio nei termini di un guadagno, di una riaffermazione di se stessi ma come guadagno del già realizzato surplus persistentivo da parte di questo gruppo umano unità politica Stato, dicevo che cos'è che non deve sfuggire? Che nei termini di questo esercizio di sovranità il sovrano sta riposizionando l'unità politica e la sta mobilitando in ragione già di quello che è, perché è sufficientemente il nostro Stato di normalità capace di reggere il colpo del mondo esterno che incombe come minaccia esistenziale e potenziale su questa unità politica Stato. Dicevo che cos'è che non deve sfuggire? Che l'esercizio della sovranità è già disponibilità piena del nostro Stato di normalità, tant'è che ogni volta in ragione della decisione che assume e il mondo esterno è in situazioni di quiete al nostro cospetto, il sovrano riposiziona e mobilita attraverso lo Stato di normalità che si deve realizzare e riaffermare il potere costituente, diciamo così, dei membri, ovvero i membri del popolo che sono membri di questa unità politica Stato. Ma poi c'è la casistica in ragione della quale l'elemento che viene veicolato dal mondo esterno eccede il nostro Stato di normalità. E qua, dicevo, si apre, lo dicevamo all'altezza dell'ambito del politico, un bivio. Il bivio in ragione del quale l'elemento di eccedenza rispetto al nostro Stato di normalità il sovrano lo valuta come non minaccioso e tuttavia rispetto al quale noi dobbiamo ristabilire e riaffermare il nostro Stato di normalità. Oppure lo valuta come l'elemento minaccioso per antonomasia. L'esercizio della sovranità, vedete, ogni volta è questa disposizione al cospetto in relazione al mondo esterno che valuta attimo per attimo il mondo esterno. Ed è la capacità netta, decisa, di attraversare il nostro Stato di normalità per riaffermarlo. Perché la decisione su un elemento che ci proviene dal mondo esterno, che eccede la situazione di Iliaca di prima, di quiete, vuol dire letteralmente, non semplicemente riaffermare il nostro Stato di normalità attingendo al nostro Stato di normalità nei termini dell'esercizio della sovranità, ovvero della prassi e la decisione politica per riposizionare e mobilitare l'unità politica Stato. Ma vuol dire, nella fattispecie dell'eccedenza che ci proviene dal mondo esterno, esercizio della sovranità come attraversamento e letteralmente manipolazione del nostro Stato di normalità, letteralmente, ovvero di modifica del nostro Stato di normalità, in ragione della sospensione che il mondo esterno determina del nostro stesso Stato di normalità. Attenzione dunque, e cominciamo a utilizzare, per introdurci poi alle questioni che ci riguarderanno ancora più da presto rispetto al qui ed ora che stiamo vivendo, come Stato d'eccezione e come paradigma di governo, l'esercizio della sovranità vuol dire, in ragione di sospensione del nostro Stato di normalità, che non è una decisione che viene dall'interno, ma è ciò che l'interno, ovvero il sovrano, decide in ragione di un elemento di alterazione che alberga fuori dall'unità politica Stato, non dipende dall'azione dell'unità politica Stato, ma si proietta. E la nostra capacità di risposta, di fare fronte a questo elemento di eccedenza rispetto al nostro Stato di normalità, che non è sospeso dall'unità politica Stato, è sospeso già dal mondo esterno, il sovrano decide solo se l'elemento di sospensione è una minaccia esistenziale o meno, ma di fatto assume, come c'eravamo detti all'altezza dell'ambito del politico, l'elemento di sospensione del nostro Stato di normalità e ha accesso, dispone, attenzione, del nostro Stato di normalità, dei nostri motivi esistenziali, dei nostri modi d'essere, in regime di sospensione del nostro Stato di normalità, che di fatto è messo in crisi e minacciato dal mondo esterno. E nel disporre del nostro Stato di normalità, l'esercizio della sovranità, dunque l'esercizio della prasse e la decisione politica da parte del sovrano, vuol dire già trasfigurazione del nostro Stato di normalità. E allora attenzione, esercizio della sovranità da parte del monopolista della decisione politica, vuol dire capacità di attraversamento del nostro status quo, del nostro Stato di normalità, nei termini della sua costante trasfigurazione in ragione della decisione politica assunta rispetto al mondo esterno. Dicevo, se il sovrano valuta il mondo esterno, non particolarmente minaccioso, ma addirittura come una situazione di quiete, l'attraversamento è nei termini della riaffermazione, diciamo così, banale, quotidiana del nostro Stato di normalità. L'elemento dell'attraversamento dello Stato di normalità avviene in maniera chiara, netta, quando il sovrano assume che l'elemento di eccedenza del mondo esterno di fatto ha già sospeso il nostro Stato di normalità e nel sospenderlo la prassi della decisione politica in capo all'azione del sovrano vuol dire attraversamento del nostro Stato di normalità nei termini della sua manipolazione e trasfigurazione, per riportare l'elemento di eccedenza dentro il nostro Stato di normalità. Dunque, il vecchio potere costituente dei membri dell'unità politica...